Ok, finalmente possiamo proseguire con la lettura di Wonder, visto che la scuola è finita e ho un po' più di tempo a disposizione. Allora, siamo arrivati a pagina 55, il capitolo si intitola Da 1 a 10. La mamma ha sempre avuto questa abitudine di chiedermi come mi sentissi rispetto a una certa cosa su una scala da 1 a 10. Tutto è cominciato dopo l'operazione alla mascella, quando non potevo parlare perché avevo la bocca cucita con del filo metallico. Mi avevano preso un pezzo di osso del bacino e lo avevano inserito nel mento per farlo sembrare più normale, perciò sentivo male in un sacco di posti. La mamma indicava un punto delle medicazioni e dovevo alzare le dita per dirle quanto mi faceva male. 1 significava pochissimo, 10 significava tantissimo. Poi, quando il dottore passava per il suo giro, la mamma gli diceva se c'erano punte da sistemare o cose simili. La mamma in certi casi è diventata proprio brava a leggermi nel pensiero. Dallora abbiamo preso l'abitudine di fare questa cosa della scala da 1 a 10 ogni volta che stavo male, tipo se avevo anche un semplice mal di gola. Lei mi chiedeva da 1 a 10 e io le rispondevo 3 o quello che era. Quando è finita la scuola sono uscito e c'era la mamma che mi aspettava davanti al portone principale come tutti gli altri genitori o babysitter. La prima cosa che mi ha detto dopo avermi abbracciato è stata, allora, com'è andata da 1 a 10? 5. Ho risposto facendo spallucce, cosa che mi sono reso conto l'ha completamente spiazzata. Wow! Ha detto piano. E anche meglio di quel che speravo. Andiamo a prendere via? L'accompagna a casa la mamma di Miranda oggi? Vuoi che ti porti lo zaino, tesoro? Avevamo cominciato a farci largo attraverso la ressa di studenti e genitori, la maggior parte dei quali mi stavano notando e mi indicavano segretamente gli uni gli altri. Ce la faccio, ho detto. Mi sembra un po' troppo presante, oghi, e ha fatto per prendermelo lo stesso. Mamma! Ho esclamato strappandole di mano lo zaino e ho continuato a camminare davanti a lei fra la folla. Ci vediamo domani, August. Era Summer. Stava camminando nella direzione opposta. Ciao Summer, ho detto facendole un cenno di saluto con la mano. Una volta attraversata la strada e fuori dalla calca, la mamma mi ha chiesto, E quella chi era, oghi? Summer? È in classe con te. Ne ho un... Ne ho un mucchio di classi. È in una delle tue classi, ha insistito la mamma. No. La mamma ha aspettato che aggiungessi qualcos'altro, ma molto semplicemente io non avevo voglia di parlare. Allora è andata bene, ha detto la mamma. Ero sicuro che fossero un milione le domande che voleva farmi. Sono stati tutti gentili. Ti piacciono i tuoi insegnanti? Sì. E quei ragazzi che hai conosciuto la settimana scorsa, loro sono stati gentili. Sì, sì. Jack è stato parecchio con me. Ma è meraviglioso, tesoro. E che mi dici di quel ragazzino, Julian? Mi è tornata in mente la sua allusione ad Art Sidious di Guerre Stellari. Ma in quel momento mi è sembrato che fosse una cosa successa un centinaio di anni prima. È stato ok? Ho risposto. E la ragazzina bionda, come si chiamava lei? Charlotte. Mamma, ti ho già detto che sono stati tutti gentili. D'accordo, ha risposto lei. Onestamente non so perché ce l'avessi tanto con la mamma, ma era così, ce l'avevo con lei. Abbiamo attraversato Hemsford Avenue e lei non ha più detto una parola finché non abbiamo svoltato nel nostro isolato. Allora, ha detto a quel punto, com'è che hai conosciuto Summer se non era in una delle tue classi? Ci siamo seduti allo stesso tavolo a pranzo, ho risposto. Avevo iniziato a prendere a calcio un sasso come se fosse stato un pallone da football, inseguendolo su e giù per il marciapiede. Sembra molto simpatica. Sì, lo è. Ed è anche carina, ha aggiunto la mamma. Sì, lo so, ho risposto. Siamo una specie di la bella e la bestia. Non ho aspettato di vedere la reazione della mamma. Mi sono limitato a correre giù per il marciapiede dietro al mio sasso, che questa volta avevo scagliato più lontano che potevo. Nuovo capitolo, Padawan. Quella sera mi sono tagliato la treccina che portavo dietro alla testa. Papà è stato il primo ad accorgersene. Oh bene, ha detto, non mi è mai piaciuto quell'affare. Via invece non poteva credere che l'avessi fatto, ma ti ci sono voluti anni per farla crescere, ha esclamato. Quasi arrabbiata, perché l'hai fatto? Non lo so, ho risposto. Qualcuno ti ha preso in giro per via della treccina? No. Hai detto a Christopher che te la saresti tagliata. Non siamo più nemmeno amici. Questo non è vero, ha ribattuto lei. Non riesco a credere che tu te la sia tagliata via così. Ha aggiunto stizzita e poi, uscendo, ha praticamente sbattuto la porta di camera mia. Quando più tardi è arrivato papà per rimboccarmi le coperte, stavo facendo le coccole adesi. Lui l'ha spostata gentilmente e si è sdraiato vicino a me, sulla coperta. Allora, Oghi Doghi, ha detto, è stato davvero una buona giornata? Aveva preso la battuta da un vecchio cartone che parlava di un bassotto di nome Oghi Doghi, per inciso. Me lo aveva comprato su eBay quando aveva circa quattro anni. E lo avevamo guardato un bel po' di volte per un certo periodo, specialmente in ospedale. Lui mi chiamava Oghi Doghi e io lo chiamavo caro vecchio babbo, come il cucciolo che amava papà Basotto nel film. Certo, è andata benissimo, ho detto, annuendo. Sei stato così silenzioso tutta la sera? Sono stanco, penso. È stata una lunga giornata, vero? Ho fatto segno di sì con la testa, ma è stata veramente una giornata ok. Ho di nuovo annuito. Lui non ha detto niente, perciò dopo qualche secondo ho aggiunto È stato meglio che ok, veramente. È fantastico sentirtelo dire, Oghi, ha detto tranquillamente papà baciandomi in fronte. È così, a quanto pare la mamma ha avuto una bella idea a mandarti a scuola. Già, ma potrei sempre smettere se cambiassi idea, giusto? Questi erano i patti, sì, ha risposto papà. Anche se immagino potrebbe dipendere dalla ragione per cui hai deciso di non andarci più, però, capisci? Basta che tu ce lo dica. Devi parlarci e dirci come ti senti o se è successo qualcosa di brutto. D'accordo, mi prometti che ce lo dirai? Sì. Allora, posso farti una domanda? Sei arrabbiato con la mamma o qualcosa del genere? Sei stato un po' scontroso con lei per tutta la sera? Sai, Oghi, io sono colpevole di questa decisione di mandarti a scuola, tanto quanto lei. Non è vero, ha più colpa lei, è stata un'idea sua. Proprio in quella la mamma ha bussato alla porta e ha fatto capolino con la testa in camera mia. Volevo solo augurarti la buonanotte, ha detto. Mi è sembrata un po' intimidita per un attimo. Ciao mamma, ha detto papà, prendendomi una mano e facendomi fare ciao ciao nella sua direzione. Ho sentito che ti sei tagliato la treccina, mi ha detto la mamma, sedendosi sul bordo del letto vicino a Desi. Sai che problema? Ho risposto frettolosamente. Non ho mai detto che lo fosse. Perché non lo metti tu a letto stasera? Ha detto papà alla mamma mentre si alzava. Ho del lavoro da sbrigare in ogni caso. Buonanotte, figlio mio adorato. Era un altro pezzo del numero di Oggy Doggy, anche se io non ero dell'umore giusto per rispondere. Buonanotte, caro vecchio babbo. Sono molto orgoglioso di te, ha aggiunto papà, e poi si è tolto dal letto. Mamma e papà hanno sempre fatto a turno per mettermi a letto. Lo so che era un po' infantile, che ne avesse ancora bisogno, ma funzionava così fra noi. Mentre vai di là, dai un'occhiata via? Gli ha chiesto la mamma, sdraiandosi vicino a me. Papà si è fermato sulla porta e si è girato. Che c'è che non va con via? Niente. Ha detto la mamma alzando le spalle. Almeno a me non ha detto niente, ma è stato il primo giorno di liceo, anche per lei, dopo tutto. Ma ha fatto papà. E poi mi ha puntato un dito e fatto l'occhiolino. C'è sempre qualcosa che non va con voi figli, vero? Ha detto. Mai un momento di noia, ha concluso la mamma. Mai un momento di noia, ha ripetuto papà. Notte, ragazzi. Non appena ha richiuso la porta, la mamma ha preso il libro che mi stava leggendo da un paio di settimane. Ho tirato un sospiro di sollievo perché avevo veramente paura che volesse parlare. E io non me la sentivo di farlo, punto. Ma nemmeno lei sembrava avere molta voglia di parlare. Si è accontentata di far passare le pagine per trovare il punto in cui eravamo rimasti. Eravamo arrivati più o meno a metà di Lo Hobbit. Fermatevi, fermatevi, gridò Thorin, ha cominciato leggendo ad alta voce. Ma era troppo tardi. I nani entusiasti avevano sprecato le loro ultime frecce. Adesso gli archi che aveva dato loro Beor ne erano fuori uso. Era una squadra scura in volto quella sera. L'oscurità si sarebbe addensata ancora di più su di loro nei giorni seguenti. Avevano attraversato il torrente fatato, ma al di là il sentiero sembrava procedere tortuoso, esattamente come prima, e nella foresta non avevano scorto alcun cambiamento. Non so bene per quale motivo, ma di colpo mi sono messo a piangere. La mamma ha riposato il libro e mi ha abbracciato. Non sembrava per nulla sorpresa delle mie lacrime. Va tutto bene, mi ha bisbigliato all'orecchio. Andrà tutto bene. Mi dispiace, ho detto, tirando su col naso. Shhh, t'ha fatto lei, asciugandomi le lacrime con il dorso della mano. Non c'è nulla di cui devi dispiacerti. Perché devo essere così orribile, mamma? Ho sussurrato. No, ragazzino mio, tu non lo so che lo sono. Lei mi ha baciato su tutta la faccia. Mi ha baciato gli occhi troppo bassi. Mi ha baciato le guance che sembravano rientranti. Mi ha baciato la bocca da tartaruga. E mi ha mormorato parole dolci che sapevo avrebbero dovuto aiutarmi. Peccato che le parole non possono cambiare la mia faccia. Capitolo successivo Wake me up when September ends Il resto del mese di settembre è stato durissimo. Non ero abituato a svegliarmi così presto la mattina. Non ero abituato a tutta questa faccenda dei compiti a casa. Mi ho dovuto fare il mio primo test a fine mese. Non avevo mai fatto dei test quando la mamma mi dava lezioni a casa. E non mi piaceva affatto l'idea di non avere più un briciolo di tempo libero. Prima potevo giocare ogni volta che ne avevo voglia ma adesso mi sentivo come se ci fosse sempre qualcosa da fare per la scuola. Ed essere a scuola è stato orribile ai primi tempi. Ogni nuovo corso che avevo era un'occasione per gli altri di non fissarmi. Mi lanciavano le loro occhiattine di nascosto da dietro i quaderni o quando pensavano che io non li stessi guardando. Facevano il giro più lungo possibile per evitare in tutti i modi di imbattersi in me. Neanche gli potessi attaccare qualche virus come se la mia faccia fosse contagiosa. Nei corridoi, che erano sempre affollati, il mio viso riusciva a sorprendere sempre qualche ragazzo ignaro che non aveva ancora mai sentito parlare di me. Il malcapitato emetteva a quel punto lo stesso suono che uno fa quando trattiene il respiro prima di immergersi in acqua. Una specie di piccolo... Questo accadeva forse quattro o cinque volte al giorno nelle prime settimane. Sulle scale, davanti agli armadietti, in biblioteca. Cinquecento ragazzini in una scuola. Un momento o un altro doveva capitare che tutti mi vedessero la mia faccia per la prima volta. E ho capito dopo i primi due giorni che si era sparsa la voce su di me perché di tanto in tanto beccavo qualcuno che si dava gomitate con l'amico mentre mi passavano vicino. o che si metteva la mano davanti alla bocca parlando mentre io lo superavo. Posso soltanto indovinare quello che dicevano ma per la verità preferisco evitare di pensarci. Comunque non sto dicendo che lo facessero intenzionalmente. Nessun ragazzo ha mai riso nemmeno una volta o fatto verso e roba del genere. Erano semplicemente dei normalissimi ragazzini ottusi, lo so. E in un certo senso avrei anche voluto dirglielo tipo è ok, lo so che è un aspetto strano, guardate pure amica mordo. Ehi, la verità è che se uno walkie cominciasse di punto in bianco a frequentare la scuola io sarei curioso e probabilmente un po' lo fisserei anche. E se stessi camminando con Gekko Summer probabilmente bisbeglierei l'euro qualcosa del tipo Ehi, guardate, c'è il walkie. E se il walkie mi beccasse mentre lo dico saprebbe che non volevo essere cattivo. Stavo solo sottolineando il fatto che lui è uno walkie. Ci è voluto una settimana perché i miei compagni di classe si abituassero alla mia faccia e li vedevo tutti i giorni in tutti i miei corsi. Ci sono volute due settimane perché il resto dei ragazzi del mio anno si abituassero alla mia faccia e li vedevo in mensa, in cortile, in educazione fisica, musica, in biblioteca e in informatica. Ma ci è voluto circa un mese perché il resto della scuola si abituassero alla mia faccia. Erano i ragazzi che frequentavano tutti gli altri anni. Alcuni erano grandi, alcuni avevano un taglio di capelli da pazzo. Altri portavano piccoli piercing al naso, alcuni erano anche pieni di brufoli. Ma nessuno aveva una faccia come la mia. Alla prossima!